buongiorno ragazzi poco tempo fa sono riuscito a rubare un'intervista mariano spalletti country manager italia di conto una neobanca che lavora con piccole e medie imprese e start up con lui abbiamo parlato moltissimo di fintech e di come funzionano i modelli di business di queste nuove aziende tra l'altro gli ho fatto moltissime delle vostre domande perché come sapete io faccio sempre una storia su instagram di questo tipo dove chiedo a voi che domande fareste ai miei intervistati quindi se volete partecipare anche voi alle mie prossime interviste andatemi a seguire su instagram detto questo l'intervista che gli ho fatto è stata molto interessante parte dalle basi del fintech e man mano che ci addentriamo nell'intervista va sempre di più ad approfondire quindi il mio consiglio di seguirla tutta per contestualizzare però se siete interessati ad una domanda nello specifico qui sotto in descrizione vi lascio un indice dove potete andare immediatamente a trovare la risposta alle vostre domande poi sempre qui sotto in descrizione se volete andare ad approfondire cos'è conto e come lavora mariano vi lascio un link tramite il quale potete trovare tutte le vostre informazioni detto questo io vi lascio all'intervista che è stata molto molto dettagliata interessante ciao a tutti buongiorno ragazzi sono qui con mariano spalletti country manager italia di conto loro sono una neo banca per start up e piccole e medie imprese e con lui oggi vogliamo parlare di fintech e dei modelli di business di queste nuove aziende io intanto lo ringrazio ma sarà molto più bravo di lui a introdurre questo argomento ea introdursi grazie mille per l'introduzione grazie a te per questa bella chiacchierata che ci stiamo per per fare io sono mariano sono il country manager italia di conto come stavi iniziando introdurre conto è una neo banca dedicata esclusivamente al sequento business quindi per dare un po più di contesto quello che fermano i nostri clienti è un conto corrente business 100 per cento online di tipo smart quindi estremamente semplice utilizzare che dà la possibilità alle aziende tendenzialmente di risparmiare moltissimo tempo nella loro quotidianità bancaria quindi tutte quelle operazioni di pagamento e di gestione dei pagamenti aziendali anche dei propri dipendenti ma anche di semplificazione delle attività che riguardano tutto ciò che ruota attorno ai pagamenti aziendali quindi anche le attività amministrative e le attività di contabilità ok ho capito e qual è stato il trend vostro come azienda fintech europeo e mondiale di queste nuove aziende innovative che vanno un po a dar fastidio alle banche se così si può dire se questo è un tema molto molto ampio e delicato allora conto è nato nel 2016 è nata la società è stata lanciata nel 2017 luglio 2017 quindi poco più di due anni fa sul mercato e già nella nicchia che poi tanto nicchia non è perché ci sono milioni di imprese a livello italiano europeo francese è la neobanca numero uno a livello appunto europeo per questo segmento di mercato dopo appena due anni abbiamo 65 mila clienti abbiamo ricevuto finanziamenti per oltre 32 milioni di euro anche da venture capital americani statunitensi comunque siamo diventati il benchmark di mercato per questo tipo di per questo tipo di servizio a livello fintech invece in generale il trend è molto positivo il fintech è una delle industrie più interessanti a livello mondiale nel 2018 sono stati fatti investimenti in stata fintech sempre a livello globale per circa 50 miliardi di euro con un incremento del sono raddoppiati rispetto al al 2017 ci sono 39 startup che sono che hanno ricevuto una quotazione di circa un billion quindi di un miliardo di euro di almeno un billion sono detti unicorni quindi 39 unicorni a livello mondiale è anche per dare un po l'idea di quanto sia impattante importante diventato il settore del fintech nel 2018 sono stati transati tramite le aziende fintech oltre 1200 miliardi di euro incremento anche questo del 20 per cento rispetto all'anno prima a livello europeo allora queste startup sono prevalentemente concentrate negli stati uniti e in cina in europa stiamo iniziando a crescere ci sono cinque unicorni in europa interessante vedere come tre di questi cinque unicorni siano operino nel segmento del banking quindi sono challenger banks a livello italiano invece siamo ancora un po stiamo partendo proprio in questi anni gli investimenti sono intorno alla soglia dei 200 milioni di euro ripeto sia un po indietro però è interessante il dato che questi finanziamenti sono cresciuti dal 2017 a 2018 di circa quattro volte quindi di fattore 4 per è una crescita quasi impressionante se così si può dire ma come la vedi questo come lo vedi questo conflitto tra banche e magari finte fintech banking come dicevi prima e quali sono i vantaggi magari per le quali per i quali un'azienda fintech sorpassa una banca per questo in questo caso sì questo è legato molto al tema dei modelli di business in generale come dicevo è un dato interessante il fatto che tre su cinque unicorni in europa siano delle challenger bank ovviamente a livello challenger bank sono state lanciate inizialmente delle challenger bank con focus b2c perché comunque il mercato è molto più ampio ed è rimasta sguarnita così come storicamente nel mondo del banking il la nicchia dedicata al b2b quindi alle aziende mentre conto in questo caso è arrivato con questo tipo di focus per la prima volta quindi diciamo un livello abbastanza abbastanza nuovo le banche allora le banche dipende dal tipo di fintech che andiamo a considerare ci sono delle fintech che sono nate anche esplicitamente per andare a collaborare con le banche o per essere acquisite o per fornire alle banche dei servizi cosiddetti white label quindi io ti do un servizio particolarmente performante che non ha nulla che non cozza comunque non va contro il tuo modello di business semplicemente tu gli metti il tuo brand sopra e lo dai ai tuoi clienti che non vedranno non vedranno mai il mio nome su quel servizio la quindi in questo caso sono delle fintech che operano interfacciandosi con diciamo con i propri clienti con un modello di business b2b2b o b2b2c possiamo parlare di insurtech in questo caso quindi di aziende che si occupano dei servizi assicurativi possiamo parlare anche servizi di anche investimento quindi di piccoli investimenti che magari le banche alle banche non interessa perché sono piccoli risparmi 1.000 2.000 5.000 euro però in questo caso per il cliente è un grosso servizio la possibilità di poter accedere facilmente a dei servizi appunto di investimento finanziario mentre ci sono altre fintech come appunto le challenger banks che non sono particolarmente disposte a collaborare con le banche semplicemente per il fatto che sono nate proprio per fare disruption in questo settore quindi andare a cambiare lo status quo proprio perché le banche non davano un servizio soddisfacente a livello di servizio a livello di pricing queste neobanche o challenger banks sono nate proprio per reinventare il modello di banca quindi da questo punto di vista non vedo dei punti di contatto di o di collaborazione infine ci sono i nuovi con la diciamo con la nuova psd2 sono inizieranno a prendere piede sempre di più queste terze parti quindi gli ice pp sp che sono delle tendenzialmente ci sono possiamo semplificare con gli aggregatori di conto correnti per dare un'immagine un po più semplice un po più comprensibile i lavori quindi questi aggregatori di conto corrente sono da un lato un'opportunità per le banche che sapranno sfruttare questa questo nuovo potenziale touch point con la propria casa verbe con i propri prospect perché potrebbe essere un ulteriore canale di marketing e di attenzione del cliente che è un pain abbastanza importante per le banche perché hanno i costi acquisizioni molto elevati dall'altro però c'è il rovescio la medaglia che questi aggregatori ovviamente porteranno sulle loro piattaforme diversi conti correnti quindi tendenzialmente il pallino sposta viene spostato nelle mani appunto delle delle terze parti quindi in realtà a livello di psd2 siamo appena partiti tutto il contesto e anche tutto l'assetto ancora da si deve ancora sviluppare non sappiamo dove dove andremo è stata venduta questa cosa a livello comunicativo come un punto di svolta da alloggio di domani il 14 settembre psd2 cambierà tutto ovviamente non è così era un qualche cosa di graduale è ancora le banche ci sono molte banche che devono adeguarsi al punto di vista compliance al normativo dall'altro ci sono ancora molti modelli business potenziali interessantissimi che nasceranno nei prossimi mesi e anni ok hai parlato di tantissimi diversi modelli di business di business per le fintech ma secondo te quali sono i più interessanti e magari anche i più profittevoli ad ora sì il modello di business dipende sia da dalla tipologia di servizio offerto che dalla tipologia di tecnologia con la quale io fintech erogo un determinato servizio secondo me le tipologie di servizi e i trend più interessanti riguardano i pagamenti digitali e in particolare il mobile payment quindi il pagamento fatto con lo smartphone ci sono delle aziende che anche qua ci sono diverse tipologie di erogazione di servizio su questo tipo di pagamento per esempio la stessa apple pay google pay che sono semplicemente dei wallet all'interno dei quali io sto con le mie carte di debito e poi vado a fare un pagamento quindi non fanno nessun tipo di attività come card processing o nessun tipo di attività a valore particolarmente aggiunto semplicemente una user experience che col cellulare con lo smartphone pago ovviamente guadagno una commissione quindi non è altro che un anello in più che si va ad aggiungere alla catena intermediario intermedia in più esatto quindi la catena dei pagamenti rimane uguale semplicemente c'è un intermediario in più che di solito scotta il merchant dopodiché ci sono i modelli anche più innovativi e vorrei fare il nome appunto di una startup italiana che è cresciuta molto bene negli ultimi anni che stati spei che invece sono inventati dei modelli un po più disruptive andando al di sopra di questa catena dei pagamenti e quindi andando a disintermediare quindi non ci saranno più il gateway di pagamento il card processor e la mastercard o visa che sono appunto il circuiti di pagamento in sé ma loro saltano al di sopra e semplicemente giocando sull'SDD quindi la debito diretto è la lsct che è il separate di transfer il bonifico riescono a abbattere i loro costi e quindi a dare un servizio molto più conveniente anche al merchant in questo caso è riuscendo a proporre in questo caso riuscendo a risolvere uno dei problemi tipici che hanno i merchant in italia poter far pagare tramite un canale digitale dei piccoli importi anche per esempio per un caffè perché per loro è gratuito un'altra tipologia un altro trend interessante è quello che riguarda appunto il business banking come ho visto stiamo cambiando tendenzialmente quella che è l'idea di banca il modo in cui le persone vedono le banche sia il segmento consumer che il segmento business da quando è arrivato conto è uno dei player però siamo appunto il benchmark di riferimento al mercato tante due tipologie servizi sono molto interessanti riguardano la possibilità di diciamo accedere a dei finanziamenti quindi le piattaforme di crowdfunding come abbiamo visto ma anche il digital lending normalmente il p2p lending o ancora il digital factoring per esempio che sono dei servizi che sono molto interessanti soprattutto lato business così come ci sono anche altre soluzioni che si stanno sviluppando come l'accesso al micro credito per il lotto consumer in questo caso per andare a fare per esempio degli acquisti su e commerce con dei pagamenti dilazionati in questo caso l'ultimo segmento che sono mai molto interessante è quello dell'investimento che si lega al discorso delle terze parti adesso quindi io ti do la possibilità di entrare in un settore o ti do la possibilità di usufruire di un servizio che tendenzialmente è stato sempre molto painful molto scuro diciamo di solito non è facile fare degli investimenti finanziari perché ha dei piccoli importi 2000 5.000 10.000 c'è sempre una difficoltà di interazione con consulente una grossa asimmetria informativa dando di questi argomenti lo vedo moltissimo e molto spesso quindi capisco cosa stai cercando di dire vedo che la difficoltà è grandissima nel far capire soprattutto nell'educare la persona in questo solo dava gli investimenti assolutamente penso che quella sia un grande problema che si è risolto può essere anche parecchio profittevole e in questo caso interessante anche per le banche comunque quella quella fascia di clientela non viene effettivamente servita al meglio ma proprio perché per la banca non è profittevole cioè quindi in questo caso si può dare accesso a degli investimenti finanziari a chiamare più disponibilità e la passione per la borsa il trading in borsa in maniera semplice tramite delle applicazioni estremamente intuitive è facile da capire perché come dicevo quando io vado in banca e parlo col consulente non necessariamente capisco quello che sto comprando quello che sto facendo quindi in questo caso gli aggregatori riescono anche in alcuni casi a farmi delle proposte in base al mio comportamento al consumo quindi in base a come all'analisi dei dati e come io sto spendendo i miei soldi non soltanto con un conto bancario perché sono degli aggregatori quindi sulla base di tutti i miei conti bancari non mi dicono perfetto magari ti potrebbe interessare questo prodotto qua certo poi ve lo spiegano è molto intuitivo e vado avanti con il mio investimento molto molto interessante ci sono anche molti problemi e possibili risultati e possibili modalità di business poi come dicevi è un mondo che adesso è a venire quindi sarà di sicuro interessante seguirlo per i prossimi anni mentre parlando più specificatamente di conto ho già detto tre o quattro volte il nome l'ho sbagliato tutte qua ma questo abbastanza comune conto conto ok conto qual è il vostro modello di business e cosa ambite o vorreste fare nel nell'avvenire della della vostra azienda della vostra fintech sì allora noi siamo come diceva challenger bank siamo molto focalizzati sullo sviluppare sempre meglio i servizi banking core ma legati soprattutto ai pagamenti quindi la gestione pagamenti aziendali non sono le business è abbastanza semplice noi facciamo noi proponiamo i nostri clienti una subscription fee quindi un piano mensile che diciamo con dei prezzi differenti in base alle funzionalità che sono incluse nel piano e dopo di che ovviamente guadagniamo con le carte conto essendo un issuer di carta guadagniamo una piccola fee ogni volta che è un nostro cliente fa un acquisto con carta conto ovviamente fee che è lato merchant e non lato cliente nel frattempo ovviamente il nostro obiettivo quello di ampliare più possibile la fetta di servizi che offriamo alla nostra clientela motivo per cui in questo caso sviluppiamo delle partnership con delle eccellenze locali in questo caso proprio pochissimo tempo fa abbiamo lanciato una partnership con borsa del credito che è una start up italiana che rappresenta un'eccellenza nell'ambito del p2p lending quindi diamo la possibilità di accedere con delle condizioni agevolate a dei finanziamenti per la propria per la propria attività ok ho capito molto semplice e anche molto intuitivo per chi non capisse di cosa si tratta è come loro guadagnino tra virgolette e molte di queste opportunità sono anche legate da quel che so io alla psd2 come si comporta conto e quali sono le novità che introduce questa normativa che abbiamo già citato in precedenza si la psd2 come dicevo è stata chiamata col nome open banking perché di fatto rappresenta il momento in cui le banche hanno dovuto anche se realtà molte sono in corso di diciamo un corso d'opera non sono ancora adeguate ma hanno dovuto per i propri sistemi a queste terze parti quindi agli aisp e pisp e per contestualizzare un po la psd2 altro non è che la continuazione di un percorso che lui è l'europaio è stato iniziato con la psd1 che è stata la normativa che nel 2007 fondamentalmente ha dato il via libera agli istituti di pagamento quindi riconosciuto istituti di pagamento accanto ai su di credito che sono le banche tradizionali è dato la possibilità nell'area sepa di poter operare nella cosiddetta libera prestazione di servizi quindi senza necessità di aprire una branch locale se sei nell'area sepa puoi comunque erogare i tuoi servizi anche negli altri paesi europei quindi l'obiettivo è che è stato quello di e continua ad essere quello di costruire dei servizi attorno all'utente ok quindi spostare il vantaggio dall'erogatore del servizio al fruitore del servizio e fare in modo che aumenti da un lato la qualità servizio e diminuisca dall'altro il costo di accesso a questo servizio quindi banalmente aumentare la competizione su quel tipo di servizi finanziari con la psd2 il vantaggio principale quindi c'è il consumatore hanno un vantaggio anche le start up queste terze parti che si occupano per esempio di aggregare i conti correnti di analizzare il comportamento al consumo e poi a seconda del modello e business per tornare su quel tema la attaccarci dei pezzi può essere il finanziamento che può essere l'assicurazione che può essere anche dei consigli a volte semplicemente sul risparmio in questo modo risparmio in quest'altro modo mentre le banche come dicevo si vedrà si vedrà da un lato hanno l'opportunità di avere dei nuovi canali di acquisizione del cliente dall'altro rischiano di perdere che probabilmente la loro preoccupazione principale il controllo sul cliente perché di solito le piattaforme che funzionano meglio e che creano retention sono le piattaforme che creano engagement in questo caso se la differenza la fa la ux e non entro più sull'applicazione della banca entro solo sull'aggregatore e tendenzialmente anche perché oggi di fatto la banca la banca i servizi bancari sono delle commodities e non sono legato alla mia banca non sono affezionato alla mia banca voglio fare quella determinata cosa nel minore tempo possibile senza che appunto mi faccia perdere tempo che mi crei stress perché magari non capisco come funziona l'applicazione se oggi la mia banca non mi da questa possibilità è un altro applicativo che aggrega i miei conti correnti lo fa ben venga passa quell'applicativo e magari posso anche decidere di cambiare da una banca all'altra perché di fatto non mi da non mi cambierà insomma lo che ha capito di sicuro sarà una grande sfida per le nuove realtà perché hanno la possibilità di avere una minore barriera d'ingresso da quel che ho capito io assolutamente e sarà una ulteriore sfida per le banche che si devono adattare a questa nuova normativa dal punto di vista delle barriere d'ingresso quali sono i vantaggi comuni delle fintech per quel che riguarda i servizi lato consumer diciamo allora le fintech hanno ovviamente dei modelli di business e forniscono dei servizi molto diversi tra loro però anche vero che hanno delle caratteristiche comuni in orizzontale che le accomunano che sono tendenzialmente l'accessibilità in termini di assoluta mancanza o comunque minima burocrazia per riuscire ad accedere al servizio anche a servizi che magari sarebbero fruibili in maniera alternativa ma richiederebbero molto tempo per fare degli esempi concreti possiamo pensare per esempio all'apertura con l'esperienza personale all'apertura di un conto corrente bancario solo devi fare con una banca tradizionale devi andare fisicamente in banca e perdere una mezza giornata a mettere delle firme con una challenger bank lo fai in 10 15 minuti online oppure ancora l'azienda per chi chiede un prestito in banca ancora una volta deve non solo andare in banca ma aspettare delle settimane affinché questo credito venga eventualmente erogato nel caso positivo con dei player come borsa il credito con cui abbiamo lanciato una partnership poco tempo fa ad esempio per avere un credito puoi chiederlo online in maniera estremamente semplice con pochissimi dati nel giro di qualche ora ti è data risposta sì no nel giro di pochi giorni due tre ti arriva effettivamente il prestito così come ancora le start up che hanno difficoltà a ottenere dei finanziamenti se andassero in banca normalmente hanno dei modelli di business e dei business plan che non sono tipici che non sono quelli di un'attività tipica no quindi viene anche più difficile per una banca andare a prendersi questo rischio dire sì ti do questo finanziamento quindi non avrebbero finanziamenti con delle piattaforme di crowdfunding riescono invece per esempio ad avere il capitale iniziale per partire per prendere avanti al loro percorso un'altra caratteristica oltre all'accessibilità e la semplicità quindi banalmente io faccio le stesse cose in maniera estremamente più intuitiva in un applicativo un'applicazione utilizzo in internet banking in maniera molto più fluida rispetto a quello di una banca tradizionale faccio sempre esempio di conto perché mentre tu avrai sicuramente i tuoi applicativi delle tue banche consumer nell'ambito business ad esempio questo non avviene ne parlo in cognizione di causa perché nella mia esperienza personale l'ultima esperienza lavorativa è stata quella di lanciare la mia start up quando mi è stato dato il conto corrente tra l'altro da una delle principali banche italiane non potevo crederci al fatto che questa user experience mi sembrava rimasta all'inizio anni 2000 quindi avevo ancora il mio token e perdevo un sacco di tempo per fare le operazioni e infine c'è la trasparenza in realtà dire parlare più di pricing in generale che riguarda anche la trasparenza e quindi le challenger bank in particolare non hanno delle fila di fisiche quindi devono sostenere degli investimenti limiti in questo caso nulli in real estate e personale quindi negli immobili e nel personale che ci lavora e quindi riescono ad essere molto più competitive sono hanno i modelli business scalabili e a livello di trasparenza anche perché se tu prendi come esempio il foglio illustrativo di una banca intanto ne prendi due sono strutturati in maniera diversa quindi già fai fatica a compararli anche il livello di voce di costo non vengono chiamati nello stesso modo e poi ci sono tantissimi costi nascosti il costo di gestione del conto che mai ha messo alla fine e non capisci quanto diventa incidere i costi variabili a scaglioni anche la difficili magari da capire mentre con le cianegno bank in questo caso conto hai una pagina dove intanto c'è tutto il pricing molto in maniera molto snella definito è il quale cosa devi aspettare sai che cosa devi aspettare sia a livello di servizio che livello di costo per quella determinata tipologia di servizio e in più ti diamo della possibilità di comparare il conto corrente conto ad esempio con le altre banche quindi abbiamo un comparato online dove puoi andare a vedere il conto che cosa ti dà le altre banche cosa ti danno e in più per aiutarti ancora di più nella valutazione ti facciamo anche un paio di simulazioni proprio per superare la barriera del costo nascosto perché magari alcuni pensano che stanno pagando il conto corrente x in realtà lo pagano y facciamo una simulazione con a se diciamo simulando un profilo di utilizzo con un determinato numero di carte un determinato numero di movimenti in maniera tale che tiene un benchmark molto chiaro e sai già cosa spenderà e quindi se lo metti in conto e sei a posto esattamente questi sono i vantaggi diciamo condivisi le caratteristiche condivise a tutte le fintech ti ringrazio tantissimo di tutte le informazioni che ci hai dato qui oggi e vi invito ad andare a visitare conto magari qui sotto in descrizione vi lascio qualche link così possono andare a vedere compi la tipologia di servizio che offrite grazie mille a cercare eccoci qui spero che l'intervista sia stata a voi gradita se avete ulteriori domande lasciatemele tutte qui sotto nei commenti magari avrò un'altra occasione di incontrare mariano poi se il video vi è piaciuto ed è stato interessante lasciate mi piace iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi